Buonasera e benvenuti in edizione porderonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dal report sul coronavirus. Sono quasi dimezzati rispetto a ieri i numeri del contagio. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono state rilevate 218 nuove positività, 14 delle quali in Friuli occidentale. Rispetto a ieri il numero è sceso di 185 unità, ma a fronte di un terzo in meno di tamponi eseguiti. E sono 5 i decessi da Covid-19 registrati, due dei quali in Friuli occidentale. Si tratta di un uomo di 92 anni di San Quirino e di una donna di 62 anni di San Vito al tagliamento, entrambi deceduti all'ospedale di Pordenone. Scendono a 37 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 179 ricoverati in altri reparti. I casi attuali di infezione sono 5.618, 178 più di ieri. Ancora coronavirus a Pordenone non serviranno misure più ristrettive rispetto a quelle del nuovo DPCM. Sono le parole del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani in merito alle nuove possibili limitazioni governative. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma le nuove disposizioni nazionali siano davvero efficaci, afferma il primo cittadino che ha annunciato un fondo di 400 mila euro per le persone in difficoltà. Misure più ristrettive rispetto a quelle nazionali? Non me la sento e non lo voglio fare. E questa è la posizione del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani rispetto alla possibilità che avranno i territori di applicare limitazioni anti-covid più severe rispetto a quelle che saranno varate con il nuovo DPCM. Il primo cittadino poi chiede al governo di dare ascolto ai governatori delle regioni e di varare misure a seconda della situazione territoriale. Il senso civico, la compostezza di questa comunità ha dimostrato di essere assoluta, al netto di qualche raro episodio di persone che ovviamente non vogliono aspettare le regole, gli distanziamenti o che sono ad un livello di esasperazione tale per cui hanno bisogno di aiuto, di collaborazione anche psicologica da parte nostra, la città si è sempre comportata bene. Quindi non credo sarà necessario. Al contrario, secondo me è indispensabile invece sentire quello che ha detto il governatore, cioè magari con delle chiusure del coprifuoco, delle zone rosse localizzate dipendentemente dall'andamento del contagio. Quindi vediamo come va, ma ulteriori restrizioni francamente no. Non me la sento e non credo siano neanche necessarie. Ciriani si dice pronto a fare la propria parte, ma le restrizioni governative dovranno risultare efficaci nel contenimento del contagio. Siamo tutti pronti a eseguire gli ordini che ci verranno impartiti, però queste misure restrittive dovranno dare dei risultati significativi, perché abbiamo avuto troppi ritardi e troppe lacune, che i cittadini non sono più disposti a sostenere, quindi prontissimi a fare la nostra parte, purché i provvedimenti consentano di fermare il contagio, perché se questi provvedimenti significheranno ulteriori sacrifici per i cittadini, ma non si ferma la pandemia e muore l'economia, le conseguenze saranno decisamente molto gravi. Da canto suo il Comune di Pordenone ha pronti 400 mila euro per le persone che si troveranno in difficoltà. Accanto ai finanziamenti, agli interventi già fatti nel campo dei tributi locali, nell'azzeramento dei cani e strada sportivi, nell'azzeramento della cosa, nella diminuzione dell'IMU, altri 400 mila euro per andare incontro a quelle persone che a causa del Covid in questo momento stanno soffrendo. E il Covid non ferma la palestra a Schesis di Fontana Fredda. Con il beneplacito delle autorità, il titolare ha organizzato lezioni di fitness all'aperto, destinate a tesserati e gratuite. Lezioni di fitness all'esterno dedicate ai soci. Mario Bolognini, titolare della palestra a Schesis di Fontana Fredda, ha risolto così il nodo della sicurezza contro il coronavirus e la possibilità di continuare a fare attività fisica. La palestra spiega a Bolognini, che gestisce l'attività assieme alla socia Ambra Moretti, è chiuso al pubblico e nello stabile nessuno può entrare. Abbiamo così chiesto al sindaco, alla polizia locale e anche al prefetto se fosse possibile spostare le lezioni all'aperto, garantendo la distanza di due metri tra gli attrezzi e la risposta è stata positiva. Un modo questo per continuare a dare il servizio ai clienti, anche se le perdite economiche ci saranno ugualmente. Le lezioni, continua Bolognini, sono gratuite e dedicate agli iscritti. Fa da sé che in questo periodo non accetterò nuovi tesserati. Già mercoledì il titolare della palestra allisterà un corso di gambe, addome e glutei nel parcheggio di sua proprietà, con tanto di mochette, garantendo comunque uno spazio per il passaggio. In precedenza, prosegue Bolognini, avevamo adottato tutte le misure anticoronavirus, dal gel disinfettante al distanziamento tra gli attrezzi e all'interdizione all'uso per alcuni di questi. E qui non si sono mai verificati i contagi. Se sono preoccupato, lo sono, conclude, per i miei collaboratori. L'importante è che arrivino i contributi. Già con il primo lockdown ho acceso un mutuo garantito dallo Stato, ma sono soldi che dovrò restituire. Andiamo alla cronaca. Una 58enne del Friuli Occidentale è stata posta ai domiciliari per atti persecutori contro una coppia. Nell'arco di sette mesi aveva tempestato di lettere e visite non gradite l'uomo, del quale si era invaghita e minacciato la moglie. Lo spiava e lo tempestava di lettere minacciando la moglie. Una donna del Friuli Occidentale è finita agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. È stato eseguito questa mattina dagli agenti della squadra mobile della costura di Pordenone il provvedimento restrittivo nei confronti di una 58enne accusata di atti persecutori e di violazione di domicilio. Tutto è cominciato a marzo, quando la donna si era invaghita di un uomo, frequentato per motivi professionali, senza esserne corrisposta. Inizialmente aveva inviato lettere scritte a mano all'oggetto del proprio desiderio e alla moglie, da una parte professando l'amore verso l'uomo, dall'altra minacciandola di lui con sorte. Poi la situazione è peggiorata e la 58enne ha cominciato a farci trovare sempre più spesso vicino all'abitazione della coppia nella loro sede lavorativa, arrivando a fermarli per strada e persino facendo scritte sui muri. In un'occasione la persecutrice si era anche introdotta nel giardino dell'abitazione dei due per incontrare e minacciare la rivale in amore. Una situazione questa che, nell'arco di sette mesi, ha finito per creare un grave stato d'ansia nelle due vittime, le quali hanno temuto per la propria incolumità. Per paura di imbattersi nella stalker erano giunte al punto di farsi accompagnare da terzi al lavoro. Per questi motivi il GIP del Tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccin, su richiesta del PM Marco Fayon, ha disposto il provvedimento restrittivo che prevede anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Voltiamo pagina. Le criticità dell'acquedotto che stanno interessando 12 comuni della Pedemontana del Friulio Occidentale potrebbero durare per un tempo significativo, lo ha affermato il presidente di Idrogea Giovanni De Lorenzi. Le criticità riguardante l'erogazione di acqua in 12 comuni della Pedemontana del Friulio Occidentale potrebbero durare a lungo. A dirlo è il presidente di Idrogea Giovanni De Lorenzi, che ha spiegato come il problema della torbidità dell'acqua per 15.000 utenze, costretta a rifornirsi di acqua potabile dalle cisterne disposte sul territorio, non sarà di facile soluzione. Alla fine della scorsa settimana, Idrogea aveva comunicato come, proprio a causa della turbidità, l'acqua non era idonea all'utilizzo potabile e alimentare. Un nuovo episodio di una sede che continua da mesi in occasione di forti precipitazioni. Nodo della questione è la presa del torrente Comune in Val d'Arzino. È emersa la settimana scorsa in maniera molto evidente l'impossibilità di accedere all'opera di presa e quindi di poter assicurare nel futuro le manutenzioni. Questo ovviamente comporta un passo avanti in termini negativi della criticità che emerge su quella presa. Di fatto c'è una criticità ormai quasi cronica di questa opera di presa e la soluzione non può che derivare ad un intervento strutturale, importante, radicale. Sicuramente la situazione persisterà per un periodo, non posso dire lungo, 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 ma sicuramente un periodo significativo, con la speranza che magari quella turbidità che oggi emerge possa magari decantare. Però devo essere anche estremamente franco, non è detto che possa decantare perché fin tanto che c'è l'apporto solido sull'opera di presa potrebbe perpetuare nel tempo. Un intervento tampone di manutenzione strutturale potrebbe essere possibile nel momento in cui possa essere anche ripristinato l'accesso alla galleria, che oggi non è possibile. Stiamo valutando delle soluzioni che pensiamo di poter mettere in campo in maniera appropriata, questo per tranquillizzare la popolazione. E non sono mancati gli utenti che hanno chiesto a fronte della criticità un taglio della bolletta. Noi il servizio lo diamo in maniera totale, diamo l'acqua potabile, ci costa anche di più darlo in maniera sostitutiva, ma lo facciamo. Se gli utenti ritengono, come hanno fatto il suo tempo ad Aviano, di poter per questo vantare un credito economico, credo che la struttura che può essere attivata in questo caso da parte di sindesi locali può essere l'autorità da ambito regionale. Parliamo di inquinamento atmosferico. Potrebbero durare fino a mercoledì le misure anti-smog in vigore da domenica a Pordenone e in altri 13 comuni. Dovrebbero restare in vigore fino a mercoledì 4 le misure di emergenza per le polviri sottili a Pordenone e in altri 13 comuni del Friuli occidentale. Le limitazioni, che riguardano oltre al capoluogo Azzano Decimo, Casarsa, Cordenon, Scordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Zoppola, sono scattate domenica 1 ottobre per l'inanziamento del PM10 in atmosfera a causa delle condizioni meteorologiche. In questi comuni, come previsto dal piano anti-smog, la temperatura in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e sportive non deve superare i 20 gradi, che diventano 18 gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, con l'esclusione di edifici con classe energetica bio-superiore, strutture sanitarie, case di riposo, scuole e abitazioni nelle quali risiedono persone con malattie croniche. Vitato l'uso di combustibile a legna, a meno che questo non sia l'unico sistema di riscaldamento o che le stufe non siano a bassa emissione e l'accensione di fuochi all'aperto. Inoltre, nel capoluogo, sono in vigore i limiti dalla circolazione all'interno del ring per i veicoli più inquinanti dalle 16 alle 20. Secondo le provisioni dell'ARPA, spiega l'assessore all'ambiente di Pordenone, Stefania Boltin, le polveri sottili, il cui livello è salito e salirà soprattutto nella zona sud del Pordenonese, dovrebbero essere spazzate via dal vento di Bora, che dovrebbe soffiare sulla regione mercoledì e giovedì. E a proposito di lotta allo smog, oggi ATAP ha presentato il primo di 15 bus ecologici a metano liquido che entreranno nei prossimi mesi nel suo parco mezzi. Comune di Pordenone e ATAP hanno presentato l'autobus urbano ecologico alimentato a metano liquido. Tra il 2021 e il 2022, 15 di questi bus entreranno nel parco mezzi ATAP grazie a un bando statale vinto dall'amministrazione ciriani. Questo provvedimento, cioè l'acquisizione progressiva di bus a metano, quindi assolutamente ecologici, che permetteranno una drastica riduzione di emissione del particolato. Puntiamo da un obiettivo molto ambizioso, ne acquisteremo una dozzina, un paio ne acquisterà anche direttamente ATAP. E cioè andiamo nell'arco di un anno, due anni, a diventare tra i primi in Italia, se non addirittura a livello europeo, per numero di bus ecologici presenti nel nostro parco mezzi. La sostituzione del parco mezzi per quanto riguarda sempre il trasporto pubblico locale e urbano, anche questa è una risposta importante perché chiaramente è il tipo di trasporto che inquina di più e di conseguenza avere dei mezzi completamente ecologici, chiaramente vanno a togliere una quota importante di emissioni nocive in atmosfera. L'operazione EcoBus non è l'unica nel campo ambientale. Questo è un provvedimento che si inquadra all'interno di un percorso molto più ampio che il Comune sta svolgendo, di politiche ambientali negli esiti reali, nei fatti e non nelle parole. Ricordo il piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici, 6 milioni di investimento che hanno permesso una riduzione dei consumi tra elettricità e calore del 18% e una diminuzione dell'emissione di CO2 di 724 tonnellate anno. Ricordo il sistema infrastrutturale delle fognature, fondamentale per recuperare il gap, erano punti ultimi in Italia per la depurazione delle acque. Quindi magari ci si abbraccia ad un albero ma non si abbraccia ad un tubo delle fognature che è molto più importante. E nel giorno del 45esimo anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, casarsa della Delizia, ha ricordato il poeta assassinato il 2 novembre 1975 all'idroscallo di Ostia. Questa mattina nel cimitero cittadino ha avuto luogo una semplice cerimonia commemorativa voluta dall'amministrazione comunale e dal centro studi Pasolini. Sulla tomba del poeta è stato deposto un mazzo di fiori. Al Teatro Verdi di Pordenone a platea vuota si è tenuta la lezione concerto con la giovanissima Clarissa Bevilacqua e il musicologo Roberto Calabretto. L'evento, che ha celebrato la passione di Pasolini per i Juan Sebastian Bach, è stato trasmesso in streaming sul sito del teatro. Il nostro telegiornale termina qui. L'appuntamento è per domani sempre alle 20.45. Vi lascio in compagnia di Bianconero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. Grazie di essere stati con noi. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.